Presidente, a Salerno per chiudere la pratica a salvezza? Sì, bella... Devo dire che sono contento di andare a Salerno a giocarmi una partita così importante. Devo dire, l'ho detto in precedenza, ma lo confermo oggi, che le dichiarazioni dei tifosi salernitani mi hanno molto stupito e mi hanno molto meravigliato in positivo. Non c'è gente che dice buttiamoli in Serie C, vinciamo, massacriamoli, facciamo una guerra. Allora, grande sportività. Hanno detto, noi giocheremo per vincere, come giusto che sia. Così come giocherà l'Avellino per vincere. Però senza quella credine, con il giusto piglio del derby, come giusto che sia. Ma senza quella credine, senza che ci siano delle guerre in campo, assolutamente. Quindi questo mi fa molto piacere, denota ancora di più una maturità da parte dei tifosi che sta migliorando di volta in volta, di anno in anno. Insomma, ci auguriamo che Salernitano-Avellino sia uno spot per la Serie B. Non è certamente un bello spot il posticipo che vedrà impegnato il Trapani, ma anche il Cesena. Beh, anche questa, insomma, è una di quelle cose che mi hanno lasciato un po' perplessi. Ho sollevato il problema e avevo trovato la disponibilità sia dell'Entella che del Novara, che devono giocare, che avrebbero potuto loro, hanno dato la disponibilità di posticipare loro la partita. Purtroppo il Trapani che era presente non ha voluto saperne, per cui è chiaro che senza il consenso delle squadre non è che puoi imporre certe cose, mi pare anche corretto. Un altro spot non certo bello è il fatto che la sentenza di secondo grado arriverà il giorno dopo la fine del campionato. Beh, non è proprio così, perché il 18 quando si farà l'udienza capiremo subito come stanno le cose. La sentenza dopo 24 ore? Sì, sì, la sentenza arriverà dopo 24 ore, ma come ho detto in precedenza, abbiate fede in Taccone. Cioè io sono convinto, ma non lo dico perché non ho mosso niente, ma sono convinto nella serietà e nella tranquillità delle cose che l'Avellino non ha niente a che fare con questa situazione, per cui i giudici di secondo grado saranno molto attenti prima di dare un punto di penalizzazione all'Avellino. Per chiudere, la reclamano a Cava dei Tirreni, ad Agropoli, ma Taccone pensa all'Avellino e soprattutto al campo sportivo dove far giocare la squadra il prossimo anno. Diciamo che il problema era proprio questo, il problema di Cava non era tanto la squadra della Cavese che pure merita grande attenzione da parte nostra, come un'eventuale squadra satellite dell'Avellino, ma era anche per il campo, cioè le tifoserie Avellino e Cavese sono gemellate, quindi se io dovessi necessariamente, o per gioco forza o per necessità, spostare la squadra per l'anno prossimo da Avellino in un altro campo, Cava potrebbe essere una città giusta dove eventualmente andare. Sono situazioni che non dipendono da me, cioè non sono io che decido queste cose. Ma voglio dire, questi ancora una volta volevano un'accettazione nostra del debito. Ma qual è l'accettazione del debito? I soldi stanno lì perché nella Convenzione c'è scritto qual è il nostro impegno nei vostri confronti, ma il vostro nei nostri, perché anche nella Convenzione c'è scritto questo, le sfede straordinarie vanno defaltrate. Allora come faccio a dirti che ti devo dare 10, se tu non mi dici, quando mi devi dare indietro? Cioè guardate, è una cosa della quale veramente non so più cosa dire. Chiariamo, andar via da Avellino come stadio? Andar via da Avellino come stadio. Vi aggiungo di più, abbiamo due o tre squadre che ci hanno già dato la loro disponibilità.